all'ufficio censure e questi che scrivano in varietà devono essere virtuabili come un certo Michele Gallieri che scriveva delle riviste pazzesche e gli eroi di queste canzoni erano tutti gli attori ma soprattutto Anna Magliani e Totò e dice eroi e certo perché provate un po' a far spettacoli di satira mentre c'era il nazismo non era facile e allora proviamo se ti va a giocare e a rievocare quello che facciamo questo gioco sentiva come se non avessimo fatto le parole no come se non avessimo fatte le parole ma forse chiamiamo anche Fresi ma così è temporanea Tosca chiamo a Fresi si è vero c'è il coglione c'è scritto su una castelletta e allora come? siete pronti? tutto improvvisato eh? questo però mi tocca a voi vediamo se la svolta come è bello fa l'amore buona sera come è bello fa l'amore quando è sera come è bello fa l'amore quando è sera core a core come una nuova che è sincera che le stelle che ci guardano l'assurro Non so pelle come l'occhi che c'è lui, luce bianca dormite a un'occhione e ti insegna dove tu te vuoi baciare. specialmente con le rose primavera, non so pelle come l'occhio che non mi spera. E' un'occhione. Allora, quei sempre noi, in quella luna, che entravano, cambiavano il testo e diventava così. Fai con me? Vai! Ogni trucolino beva le alzare, ogni mazzolino arrivati a un detri, ci scagliavo sempre specialmente coi tassi, con le maghi e i cittì. sempre attenta al pizzardone, che a cavallo era imponente come un re. Ma che parte tassi e volumi? Che è venuto prima? E non so. 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 rimedia col firmamento, resta a casa e si accarezza lo strumento, ma che luna, ma che luna c'è stasera, veder bollo che si afface a stare in guerra, da San Pietro alle altre cupole laggiù, fino al mare più lontano, sempre più, e non importa se quassù non c'è nessuno, che non importa se non trovo da scagliare, mosti fiori di regalo Roma bella, che li porti ad un soldato in sentinella.